Dopo rinvie e sopralluoghi, l'Unione dei Comuni sceglie la sede definitiva del canile, che sarà dal Badriatica al confine con Corropoli. Più precisamente il canile sarà ospitato nell'ex mattatoio comunale di Via Scolana, dove si trova l'associazione cinofila Canalba, che si occuperà temporaneamente della gestione degli animali fino a quando non ci sarà la gara d'appalto per la gestione definitiva. La spesa verrà divisa tra i 12 comuni a seconda del numero di abitanti e della provenienza dei randaggi. L'altra parte di Badriatica, che si occuperà dell'ammodernamento dell'immobile e dell'adeguamento dell'area. La vicenda del canile intercomunale inizia nel 2000, nel tempo si sono offerte di ospitarlo prima Tortoreto e poi Civitella, ma tutto si è sempre concluso con un nulla di fatto. Oggi Badriatica ha dato l'ok, con un atto formale, alla sistemazione della struttura che finalmente accoglierà i cani.